Si avvicina sempre di più la stagione sciistica e ad oggi ancora non si sa se e quando nel Terramano gli impianti dei prati di Tivo potranno riaprire. Una condizione paradossale di stallo che si ripete oramai ogni anno e che crea danni economici sia agli operatori che non sanno se la stagione prenderà avvio sia tutta l'area circostante. Una situazione su cui il deputato della Lega Antonio Zennaro torna a sollecitare interventi immediati per la risoluzione definitiva dei problemi. Il tema degli impianti dei prati di Tivo è un tema che va avanti ormai da qualche anno. Siamo a novembre e ancora non si sa se gli impianti potranno riaprire. Una situazione molto difficile che crea preoccupazione ad esempio per tutti gli operatori che devono programmare la stagione invernale. Chiediamo quindi alla provincia e a tutti i soggetti di trovare una soluzione, una soluzione definitiva il prima possibile. Se no sarò costretto ancora a riportare il caso in Parlamento e fare tutti gli accertamenti del caso. Anche perché nelle settimane scorse, nei mesi precedenti, avevo prospettato una soluzione definitiva al problema attraverso un mutuo con cassa depositi e prestiti. Ricordo che la provincia è sostanzialmente proprietaria degli impianti, della seggio cabinovia, che è costata nel tempo 12 milioni di euro.